Scomparso dai radar un aereo della Pakistan International Airlines, a riferirlo a fonti locali. A bordo del velivolo, una TR, c'erano circa 40 passeggeri oltre all'equipaggio. Il volo era decollato da Khitral ed era diretto a Islamabad. L'atterraggio era previsto per le 16.40 euro a locale. Secondo la polizia, il velivolo sarebbe precipitato in una zona collinare nei pressi di Avelian, vicino a una fabbrica.